I miei bastoni nascono dal piacere che uno ha nelle passeggiate, sì nei boschi, ma in modo particolare in montagna e chi va in montagna assolutamente non può mancare un bastone. Ecco questo, a me piacerebbe pensare che un bastone così possa fare insieme con il suo proprietario delle lunghe passeggiate di qualsiasi parte del mondo possa essere. Questo che ho in mano e che appunto dedicherò alle missioni è il legno di maggio ciondolo, come potete vedere, dai due colori, perché questi due colori sono dovuti proprio alla particolarità della pianta del maggio ciondolo, questi due colori, vale a dire il fondo scuro e il basso rilievo bianco. Voi noterete che qui però abbiamo una impugnatura o testa che non è in legno di maggio ciondolo, ma in questo caso qui ho fatto un'applicazione, ho fatto un inserimento di una parte iniziale del palco del corno di un cervo e questa qui del palco del cervo è la parte iniziale, quella che si stacca dalla testa e i cervi li perdono tutti gli anni e in questo punto è dove si stacca dalla testa e in questo punto io ho ricavato, così per richiamare la montagna, ho richiamato una stella alpina. e poi come vedete andando in giù vediamo appunto il bastone sul quale ho scolpito in un motivo Liberty una serie di foglie, fiori e di riccioli a significare un po' anche lo sviluppo della vita quotidiana. che potete vedere, ecco sto appunto disegnando quello che sarà per me un po' un simbolo delle missioni, che cos'è? Sono queste due mani in posizione unite che possono essere come offerta ma anche come contenitore per ricevere e in questo angolo a destra sopra le mani vedremo, qui per il momento è solo disegnato, vedremo un sole che è simbolo proprio della vita e dell'eternità. Una volta fatto questa lavorazione di scultura passerò al lavoro di bulinatura, anzi meglio dire di fresatura per fare, per ottenere tutti questi buccherellini che vedete qua utilizzando che cosa? Utilizzando un trapanino a giri veloci con il quale io usando una fresettina dello 0,5 mm farò tanti forellini per ottenere proprio questo aspetto quasi come di porosità per dargli una morbidezza. Da quello che penso di poter dire le missioni offrono aiuto ricevendo indietro amore.